Superare i campi Rom e integrare Rom e Sinti che vivono in Toscana, molti da decenni, sono gli obiettivi del protocollo proposto dalla Regione ai Comuni Toscani e già firmato da quelli di Firenze, Prato, Lucca, Sesto Fiorentino e Carrara. Due fronti di azione, 500.000 euro nel 2018 e un altro milione nel 2019 per ristrutturare e bonificare spazi per offrire soluzioni abitative e 600.000 euro per contrastare l'abbandono scolastico dei 700 bambini che vivono nei campi Rom e Toscani. In Europa dicono che noi siamo il paese dei Rom, abbiamo questa etichetta. È stata fatta dal governo Renzi presso Palazzo Chigi con Luigi Manconi una direttiva su tutta questa materia, concordata anche con le associazioni Rom, Sinti, Caminanti. La Regione Toscana insieme ai Comuni si sta muovendo in questa direzione. La Regione interverrà al massimo fino a metà della spesa e il resto lo aggiungeranno i Comuni anche con progetti presentati in forma associata. Sulla polemica sul rischio che gli italiani siano scavalcati nell'assegnazione delle case popolari Rossi ha poi detto. La legge dello Stato prevede che si facciano delle domande e si sia tutti, indipendentemente dall'etnia a cui si appartiene, se si è residenti posti nella stessa condizione. Quindi questo tema dello scavalco non esiste. La Regione ha poi rinnovato l'appello alle forze dell'ordine a entrare nei campi Rom per controllare che chi vi si trova sia in regola. Il protocollo siglato prevede anche la creazione di un tavolo istituzionale di monitoraggio composto da tutti i sottoscrittori.